al servizio la palla flottante su Roslandia costa cambia ancora per la costa attacco di a costa c'è in difesa battista popolini spinge quel pallone contro il muro fuori giocare scola per malual courtney e ora smarzek sul muro di popolini ma la palla ancora buona esultava popolini ma la palla è ancora buona con il palleggio ancora per popolini ancora l'attacco forte si resti in palleggio per marvina smarzek ma risolve lei la risolve l'opposto polacco non lo riceve si alzano a chi cercare col bugger dall'altra parte whitney non può attaccare oro per verti disanne standing sull'asse palleggio centrale e poi oro stavolta fa quello che può free ball concessa domina ga prova a chiudere il primo tempo con pisani airbots attacca come può il muro risponde c'è il salvataggio di leonardi e poi di orro airbots ancora prova a fare il muro davanti a vasi intorno a chi quella gira ora tocca ad airbots tocca pisani ma non basta c'è airbots sempre airbots ancora airbots dai che ma va a cercare l'ipman quando tenuta mi ha cosiddetto il gioco da bollos marocchiale in baghe il primo tempo di popoli c'è non è definitivo altra opportunità ancora l'ipman viene contrato a muro poi arriva fabris e chiude lei questo scambio interminabile la difesa di sansona spettacolare poi la primo tempo non ha chiuso da anni scate l'attacco dietro di inizia non ha chiuso la difesa di carlini sansona sposta in baghera per egonu punto numero 13 per novara la ricezione è così così merlo si mola ma ne che il bagher la tengono le ragazze di scandici lottano fino alla fine cruzza ad attaccare sul muro ancora il salvataggio di stevanovic in discesa dal muro poi ad attaccare c'è ruzzini che scambio fribolo per la savino del bene allora malinov la palla è però contesa ancora il salvataggio fino all'ultimo si lotta su ogni pallone spot valinov va ad attaccare lei sulla seconda alzata per non rischiare ancora pericolosità e poi stevanovic la chiude grande confusione va grande scambio e adesso la vediamo impegnata anche in battuta ricezione di petersen e poi villani murata da beghi c'è altra possibilità per brescia nicoletti in diagonale che difesa arcangeli poi anche arcangeli può solo appoggiarla fribolo per brescia che vuole buttarla giù ma il tuffo di orman salva poi ortolani murata auto copertura orman la manda di la fribolo per brescia villani a tutto braccio la difesa di orfan sul profondo ancock per la pipe di orfan la difesa di arcangeli di julio per nicoletti il money out di anna nicoletti che spettacolo questo scambio grazie a tutti grazie a tutti